salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi vi faccio vedere come ho organizzato il mio bullet journal di marcio spero che questo video vi piaccia e ci vediamo alla fine il mio bullet journal di marcio spero che questo video vi faccio vedere come ho grazie a tutti 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 Poi durante questo mese ci aggiungerò le altre Spero che questo video vi sia piaciuto Io vi aspetto al prossimo video Ciao